Salve ragazzi, questo è il Tentotto, sono con Ratchet & Clank, siamo su Ratchet & Clank, e siamo in un momento horror, mette, anzi però è bello, vediamo un po', perché è spiritoso, è quell'horror simpatico, quella cosa lì, vediamo un po', se non avremo brutte sorprese, come fosse non ne avremo, come fosse che non ne avremo ovviamente, ne avremo e come, qual è il problema? Sì, adesso attiveremo tutto Ero, minaccia rilevata Minaccia rimossa, sistemi c'è un registro di ricerca, vediamo Minaccia rilevata Porta blindata aperta, come se mi importasse Riproduzione contenenti in anelico Presto, venite qui, ok, guardate oltre il rito, l'ho visto da quelle parti e... eccolo, vedete? Oh, come voglio dare così? Oh, ma... come non c'è? Eh, che cosa vi sentirete? Gli state facendo male? Fermi! Fermatevi subito, no! Era scarto, Vot E credo stesse parlando di Juice Andiamocene da qui! Ci siamo quasi Se io fossi del Blizzon, allora dove sarei? Anzi Qui qualcosa che nuota è questo coso, eh Non era un coso tentacolare No! Per fortuna il mio filtro 2 funziona ancora Non lo usavo darti Per fortuna il mio filtro 3 funziona ancora Non lo usavo darti Per fortuna il mio filtro 3 funziona ancora Cioè, stiamo uscendo fuori dal... Minchia! Preccio Stavo pensando a quello che hai detto sui Lombax E sul mettere a rischio la tua vita Anch'io ho nostalgia di Savali Era una vita Tranquilla Persino allegra Quando mi hai chiesto di fare squadra Non volevo perdere tutto Ma sono felice di aver rischiato Grazie Significa molto Non sono sicuro Non preoccuparti Ora posso essere io A credere in te E' bellissima ambientazione Sotto subacqua Se ci sto a camminare apposta Però come fai a rispetto a attacco Non dime che vuoi rispetto a attacco Che cosa è quella cosa lì sopra? Che cosa è quella cosa lì sopra? Grandi sostiti in arrivo Grandi sostiti in arrivo C'era qualcosa qui Ho sentito un brutto Versace Guarda una chiusa d'aria Guarda una chiusa Andiamo 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 posso capirti si bellissima elimina qualche altro cattivone se vuoi potenziare quell'arma ragazzi sto prestiamo comunque potenza un botto questo ne manca solo un altro livello siede la visita biscottino c'è un intenso campo magnetico la fonte di energia deve essere vicina impossibile quei decoratori non possono essere dovremo cercare quei decoratori per molto meno certo ma non voglio pensare ai guai che quei charlatani sarebbero in grado di combinare se li lasciassimo liberi che genere di guai e se rubassero il mio autografo dell'imperatore a tiratura illimitata se è questo che ti preoccupa non temere ti cerco sua gloriosità te ne farà comprare uno nuovo ok vedete mistica che brutta cosa che sto vedendo piragna proprio sono dei piragna li adoro intanto che combatte sacco di livello era intanto hai già fatto così poco così subito lo contiene siete mamma mia la patata che i deficienti comunque no comunque i ragazzi sono aumentati drastica ciò pericolosi che non mi seguono perché giustamente guardate là la creatura ragazzi guardate quella creatura non mi stupisce che si è arrabbiato se non vediamo noi un'occasione chi lo farà si ma hai ragione dovremo solo trovare un'altra fonte di energia sempre se prima non tiriamo le cuore sarà divertente quella ci ammazzerà con tutta la scienza è un simbilo di gioia o un simbilo di rapina ci sta aiutando ci sta aiutando ah che sollievo guai in vista juice ma speri ma se io sono arrivata a livello 6 vuol dire che posso arrivare a livello anche io oh ah 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Il Blizzard vuole venire con noi. Qualunque altro posto è meglio di questo, no? E potrebbe aiutarci ad alimentare la forgia. Ancora con noi, Giuse? Andiamo. La forgia Rubion è di sopra. Aspetta, ma c'è l'altro in mezzo. Andiamo, JC, sono io, il vecchio SB. Era una coppia. Massima potenza ripristinata. Progetti caricati. Ha funzionato? Uh là là. Sì, Kit, è fatta. Tu sei un'ottima spavola. Urrà per i nuovi amici! Adesso non ci rimane che tornare alla nostra nave. Nessun problema. Questo ascensore vi porterà dritti in superficie. Tornate presto, Rache e Securities. Grazie, lo faremo. Eh, sguardo. Come ne è venuto in mente, Scarty? Anch'io voglio inventare soprannomi così segnali. Addio, Scartobot. Benvenuto, Scarty. Guarda come sono contento. A me fa piacere sta qua. Abbiamo fatto quasi tutto, però. Vabbè, volevo vedere una volta. Niente, però sono contento. Bello, mi è piaciuta sta cosa, la cinematica alla fine. Vabbè, Rivet! Abbiamo il dimensionatore! Impossibile. Aspetta, abbiamo. Ne ero sicuro. E noi abbiamo trovato il quarzo fasico. Sì, beh, troviamoci da Zurchis per costruire il quadrare. Oh, quindi incontrerò qualcuno. Perché ti preoccupi? Hai incontrato me e direi che è andata alla grande. Sono caduta dagli archivi davanti a te e ho gridato un sacco. Vero? Beh, ecco. Cerca solo di essere amichevole e non stare a pensarci troppo. Non pensarci troppo. Ok. Una nuova area. Cioè, una vecchia area. Dovevi ritornare un attimo perché abbiamo quella missione lì. Ah, ma è tutto aperto, capito? Eh, adesso come faccio a... No, aspetta, ma io sono stupido. Perché è sopra. Niente male, sguasto. Come te la cavi? Lo sai, preferisco le gioie alle noie. Niente, volevo fare una cosa, ma niente. Volevo capire come arrivare là. Ho un'idea, so stupido io, so stupido io. Devo arrivarci in altri modi, non così. Aspettate. Ho un'idea. Oh, è vero. Io solo questa cosa non l'ho fatta, è una versione funzionante, ma è una versione scassata, giusto? Un attimo, un secondo. Un attimo, un secondo. Non, non. Sì ok ora vediamo qui che cosa possiamo fare grazie per aver scelto un miso giur con un duo io mi credo con il primo capitolo questi quali usavo sempre secondo me lo sai che è sempre meglio tenere in pugno il proprio fatto dico io credo non possa permetterti quella bellezza torna presto a trovarmi mi raccomando si con calma adesso andiamo ah non si può fare cioè tu mi stai dicendo che non si può fare ok C'è qualcosa lì figo, vabbè faccio così, credi di ritornare? Cioè senza andarcela qui ormai abbiamo fatto quasi tutto, l'unica cosa che non capisco Un significato, non capisco, non capisco senza andarcela Lashita non si è difficile, credi di proteggerlo non si apre ma l'avevamo scorso del che ottimo lavoro con la caccia agli spiabot altri cinque a quindi con lei possiamo aspetto io voglio ritornare a ecco infatti ok situazione generica abbiamo preso quasi tutto tranne due di quei corsi dorati di cui uno non so dov'è e cosa va beh ragazzi andiamo a ci incontriamo qua le dimensioni ma non so c'è pure la missione coppa bronzo no aspetta costruisce due ok mi chiedo cosa combinerai è amichevole te lo assicuro e una volta costruito il dimensionatore ci aiuterà a trovare il dottor nefarius certo la nostra avventura sta per finire il mattino presto voi dottor nefarius tornerete nella vostra dimensione c'è è cambiato qualcosa è cambiato qualcosa lo vedo lo sto percependo ma è cambiato qualcosa è cambiato quindi noi ritorniamo nei vecchi piani stessi pianeti ogni tanto interessante devi sbloccare nuovi livelli se vuoi altri potenziamenti zuccherino ragazze comunque sto potenziando un botto tutto è tanta roba ho detesto vederti andare via eh lo so tutto questo che non l'abbiamo mai fatti vediamo un po' uh incontro che cosa ah hey hey si ciao oh qui clank oh no sto bene ratchet ti dirò comincia a piacermi il mio nuovo look per la cronaca l'ho trovato già così tranquilla so che non l'hai ferito tu in fondo tu sei me giusto ehi e se invece fossi tu a essere me oh non scherziamo io non sai che dire si esatto ah 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 oh scusa rivet lei è kit è un piacere poterti conoscere eh piacere è mio è il momento di risolvere questo guaio è un rumore molestico che è questo è un rumore molestico che è questo nere oh grazie dottor nepario questa dimensione vuole proprio viziarti tutti i miei nemici si consegnano spontaneamente quante volte l'hai già sconfitto? Non abbastanza Posso provare? Accomodati Che stai facendo? Alba con le triturante Non lo stanno in un'idea Non lo stanno in unico Inelicabile Il percorso di Pariusson E tra l'arena Pronta, Kit Pronta Un'altra lotta Fortuna che non perdo mai In questa dimensione Questo è tutto da vedere Vi credete tanto forbi? Scaldiamo l'atmosfera Quanto insopportate Tre fate e basta Lasciatemi godere il mio regno Che brutto presentimento È tutto sotto controllo Sto bene Che ne hai fatto dell'imperatore Non so cosa fa Perché Sono io L'imperatore Certo E secondo te me la bevo Ahia è pericoloso Sei pericolosissimo Sei pericolosissimo Vi faccio delle cose Complimenti Sei un bel postfight Che E secondo me Ahia Volevo curarmi E quindi Sì, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Sì, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Sì, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Sì, 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 non c'è un po' di più. Ho trovato! Ti spedirò nel cuore di una supernova! Oh, aspetta! Sì, non c'è un po' di più. Sì, non c'è un po' di più. Aia, mi sto andato distratto. Oh, sto andato distratto. Oh Bello l'ultima martellata è stato tutto colpo Con la martellata Tutti quanti con te E' il vero Wow Che battaglia Non vi state divertendo? Coraggio! Un bel applauso per Rivet e la sua prima vittoria Avrei voluto potervi raggiungere prima Tuttavia sono lieto di annunciare che ho smaltito i miei nemici Con l'eccezione di Capitan Quantum E di... Comunque Quando ho saputo che la Lombax ribelle voleva sfidare me Io non ho potuto... Perderti la festa per celebrare la tua sconfitta? Chi è che festeggia? Intendi loro? Aspetta! Io combatto i ribelli da anni So esattamente come farli fuori Ah Questo strano ammiratore vuole aiutarmi? Ah 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 Intrigante Potremmo movimentare le cose Ti aspetto a casa E' diretto su Sargasso Devo arrivare prima di lui Veniamo con te Ratchet Dobbiamo trovare quanto E' l'ultimo ribelle sulla sua lista Vai su Ardolis e cerca Pierre Ti porterà da lui Che casino Però figo Prima di affrontare l'imperatore Dobbiamo procurarci tutte le risorse possibili Hai ragione Dovremmo fare un salto all'arena Prima di andarcene Interessante Eh tanta roba Allora Dobbiamo fare un po' di cose Allora La stoppiamo qui perché c'è tanta roba da fare Quindi Qui dal 38 Con un bel ballo Ti saluto Ecco qui Bella raga Di mancel Non Allora E Di mancel Di mancel